Ed eccoci di nuovo qua su Fumetterino Nero e oggi vi vorrei parlare di due letture che ho fatto recentemente e si tratta di due volumi unici, entrambi editi in Italia da D-Nit nella colonna Showcase ed entrambi della stessa autrice, cioè Kiriko Nananan. Quindi in questo caso vi vorrei parlare di blu, eccolo qua, e di zucca e maionese, entrambi quindi volume unici, zucca e maionese è leggermente più sottile rispetto a blu, il prezzo è di 16,90€, un prezzo abbastanza standard per la colonna Showcase. Ma innanzitutto io partirei col dire qual è stato il mio primo approccio a questa autrice e chi è Kiriko Nananan. Allora, ho scoperto che Kiriko Nananan parecchio tempo fa perché si parlava un gran bene su internet di blu, si diceva un gran bene, quindi sono andato a cercarmelo e l'avevo letto online. Mi era piaciuto parecchio, quando è uscito in Italia l'ho subito recuperato e l'ho riletto nella colonna Showcase in questo volume e poi dopo ho riletto durante queste vacanze natalizie sempre questo volume perché finalmente ero riuscito a recuperare anche la seconda opera edita in Italia di questa autrice, cioè zucca e maionese. Quindi in occasione di questo recupero ho deciso di fare anche una rilettura, tanto io mi dimentico abbastanza in fretta ciò che leggo, quindi bene così. Oppure male, dipende dal punto di vista. Chi è Kiriko Nananan? Allora, questa è un'autrice che ha fatto il suo debutto nel 1993 su Garo, come potete trovare anche sulla bandella all'inizio del volume. E Garo è ovviamente la famosissima e ormai mitologica rivista di manga alternativi, una rivista che sicuramente negli anni 90 pubblicava al suo interno dei fumetti completamente diversi rispetto agli inizi, cioè a quando ospitava Tsu, Getatsumi, eccetera. Però comunque una rivista di riferimento per i manga dedicati a un pubblico un po' più maturo. E all'interno delle sue pagine ospettava quindi una Kiriko Nananan debuttante sulla scena. E' stato quindi un debutto importante, così tanto importante e, se vogliamo, significativo, da venire anche inclusa in tantissime antologie di manga alternativi. Fra l'altro io credo di non possederne neanche una di queste antologie e mi dispiace parecchio, cioè di queste antologie che contengono al loro interno un capitolo scritto e disegnato da Kiriko Nananan. Questo è un vero peccato e proverò a rimediare in futuro. Bene, poi Kiriko Nananan si è spostata su altre riviste, sia Zucca Maionese sia Blu non sono state iscritte infatti sulla rivista Garo, non sono state serializzate su Garo. E nel resto della sua carriera ha pubblicato soprattutto Josei Manga. Inoltre, Kiriko Nananan è anche conosciuta per essere un'autrice che fa tutto della sua opera dall'inizio alla fine senza l'assistenza degli assistenti. Non so se negli ultimi anni questa situazione sia cambiata o meno, ma dopo ne parleremo meglio, sicuramente questa cosa si nota anche all'interno dei suoi volumi. Inoltre, Blu probabilmente è stato sì un manga alternativo dell'inizio della sua carriera perché lei ha iniziato nel 93, nel 95 ha iniziato Blu e nel 98 ha iniziato Zucca Maionese, ma comunque Blu ha avuto un enorme successo, almeno negli addetti ai settori, cioè in coloro che decidono magari che cosa pubblicare nei vari stati. Tanto è vero che è stato pubblicato in 23 edizioni diverse, suddivise in 5 lingue diverse. Quindi, sicuramente, tante pubblicazioni per un'opera sicuramente di nicchia e non manga commerciale, quindi abbastanza incredibile questo obiettivo che è riuscito a raggiungere. Inoltre, Blu sicuramente, non so se forse anche Zucca Maionese sono stati anche trasposti in adattamenti live action e forse anche qualcos'altro. Quindi, sicuramente, non è un'autrice chissà quanto sconosciuta e Blu, soprattutto, è un'opera che ha avuto molti riscontri nell'arco della sua vita. Bene, Blu che cos'è? Allora, Blu è stato serializzato su una rivista di cui ho cercato qualche informazione, no? Si chiama Comic Are, punto esclamativo, non ho idea della pronuncia perché non so a che cosa faccio riferimento. Ed è una rivista pubblicata da Magazine House, che devo dire che non conoscevo, almeno non mi è balzato niente, cioè, nella mente, non mi è venuto in mente niente proveniente da questa casa editrice. Che sicuramente non è paragonabile a Shoei, Shakodansha, Shogakukan e compagnia. Bene, però, da Comic Are, Comic Air o quello che è, sono venuti fuori tantissimi artisti. O comunque, questa rivista ha ospitato tantissimi artisti che sono stati pubblicati anche da noi. A partire da Taiyo Matsumoto, oppure da Ijiro Moro Oshii, che sto leggendo in questi giorni con Ancoku Shinwa, che è un'opera sempre editata all'interno della collana di It Showcase. Ed è un autore che è stato pubblicato anche su Weedition & Jump e che ultimamente si sta anche un po' riscoprendo in Giappone stesso. E poi c'è Isashi Eguchi, che abbiamo visto in Italia per Stop Ibericune e che è stato poi un illustratore famosissimo. Abbiamo visto anche l'autore di Tokyo Zombie, cioè Yusaka Nakuma, insomma, tanti autori che sono arrivati anche da noi. E soprattutto autori tutti, un po' particolari. Blu e Kirikonan rientrano tranquillamente all'interno di questa casistica. In questo caso, alcune volte ho trovato come target il Josei, altre volte il Seinen. Io per darmi una risposta definitiva, che cosa ho fatto? Ho visto le altre opere che sono state serializzate sulla stessa rivista come sono state targettizzate. Ed erano tutti quanti Seinen e solamente Blu ogni tanto spuntava fuori con la dicitura Josei. Quindi, questo che cosa vuol dire? Io trago le mie conclusioni e dico che la risposta giusta è questo è un Seinen. Però alla fine, chi se ne frega, è assolutamente pur parrè, l'importante è avere capito che questo sicuramente è un manga dedicato e pensato per un pubblico adulto e maturo, esattamente come anche Zucca e Maionese. E di cosa parla Blu, che è un volume unico appunto di circa poco più di 200 pagine, parla di due ragazze che sono all'ultimo anno delle scuole superiori e che non si sono mai chissà quanto frequentate o parlate, però una delle due inizia a provare un particolare interesse per l'altra. E quindi iniziano a stringere un'amicizia sempre più forte. Una di quelle amicizie abbastanza indissolubili, dove vedete durante la vostra, non so, sarà sicuramente capitato durante l'adolescenza, di vedere queste ragazze che si muovono sempre in coppia, che fanno tutto insieme, che sono veramente inseparabili. E queste due ragazze iniziano proprio a creare un rapporto molto simile a questi esempi. Però, ad un certo punto, la loro storia si trasforma in qualcosa di più, come potete anche immaginare dall'immagine di Copertina. Bene. E all'interno di questo volume, semplicissimo, con ambientazione scolastica e con un amore che sta per sbocciare, troviamo tantissime emozioni. Io veramente sono uscito da questa rilettura, fra l'altro, in modo scosso, veramente scosso, perché mi sono sentito come un ragazzino veramente in amore, che è turbato, turbato da tutte queste emozioni, dalle gelosie, dalla paura del futuro, perché queste due ragazze, se hanno l'ultimo anno di scuola superiore, devono decidere che cosa fare nel proprio futuro. Sono confuse e iniziano anche a scoprire determinate emozioni che prima non sospettavano neanche che potessero esistere. Quindi è una lettura molto semplice, come incipit, e però il modo che Rico Rananana utilizza per raccontarci questa storia è secondo me splendido, meraviglioso e questa è stata una lettura, di nuovo, affascinante, bellissima. Quindi comunque è una lettura che ha una trama molto molto semplice, poi parleremo del disegno che vi mostrerò anche. Zucca maionese è invece un seinen pubblicato su Comic Cutie, Cutie Comi, Cutie Comic, vabbè, di una casa editrice anche in questo caso che sinceramente non mi era mai capitato di incontrare, se non mi sbaglio, Takara, Takara Mamimashi, boh vabbè, cercatelo su internet perché sinceramente me lo sono dimenticato. Comunque anche in questo caso quindi si capisce che è un manga abbastanza di nicchia, particolare almeno alle origini lo era. Poi anche questo è stato ripubblicato in nuove versioni e di cosa parla questo manga che come blu è un ovviamente genere drammatico sentimentale? Parla di un rapporto che si sta trascinando un po' da tempo, del rapporto fra un ragazzo e una ragazza e questo rapporto che si sta affievolendo. E la ragazza per tentare di trovare una soluzione a questa situazione compierà delle azioni e farà delle scelte un po' un po' forti ma devo dire anche abbastanza comprensibili. Poi dopo entreremo anche nel merito di questa questione. Comunque tenterà di trovare una vedi fuga a questa situazione e vedremo poi alla fine di questo volume se sarà una vedi fuga vincente oppure no. E vi posso dire che quindi la trama all'interno di questo volume è decisamente più complessa rispetto a quella di blu. In questo caso la ragazza ad esempio lavora in un negozio di vestiti e mentre il ragazzo è ancora un po' confuso e vorrebbe fare il musicista ma non riesce a scendere compromessi. Cioè non riesce a creare delle opere o delle musiche delle canzoni adatta ad un pubblico un po' più generale un po' più grande in modo tale da poter anche vendere ciò che e campare di ciò che fa. Non riesce ad accettare il compromesso e con questa scusa se vogliamo non fa niente e infatti lui fa il mantenuto lei lo mantiene e per mantenerlo e per andare avanti prenderà appunto delle decisioni un po' estreme se vogliamo dire così ma devo dire anche abbastanza comuni almeno da ciò che sono riuscito a leggere attraverso i manga attraverso ciò che leggo anche su internet e altri racconti quindi non vi dico nient'altro questo è un volume un po' più sottile e cosa vi posso dire quindi la trama guardata in modo cinico sicuramente è decisamente più complessa in zucca e maionese e diciamo che pone anche dei dilemmi delle questioni che riflettono l'età dei protagonisti se in blu abbiamo delle due ragazzine all'ultimo anno delle superiori in zucca e maionese invece abbiamo un ragazzo e una ragazza che sono dei giovani adulti quindi già entrati nel mondo del lavoro e che hanno finito il loro ciclo scolastico e cosa vi posso dire allora a fratto mi sono dimenticato di dirvi che ho incrociato anche autori che sono stati pubblicati in italia e che sono stati ospitate all'interno della della rivista che dove è stata pubblicata zucca e maionese come ad esempio l'autrice della processione funabili di k che è stato pubblicato da noi da star comics oppure anche come mo yoko hanno che invece molto 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 più famosa rispetto a maki kusumoto bene quindi cosa vi posso dire che sulla trama vi ho già detto però c'è una ci sono alcune differenze e quindi vi vorrei parlare di qual è fra i due il volume che io ho preferito allora innanzitutto in nel caso di blu l'amore fra un ragazzo fra due ragazze è stato descritto in modo secondo me limpido semplice naturalissimo così trasparente da veramente io non mi sono neanche accorto che che erano due ragazze quasi perché non aveva alcuna importanza l'importante era il sentimento che provavano l'uno per l'altra e quindi e questo è il modo di approcciare a delle storie sentimentali non canonico nel senso che non eterosessuali che a me piace cioè il non porre proprio un'attenzione morbosa sul fatto che i protagonisti sono due ragazzi o due ragazze ma l'amore naturale così come è anche nella vita di tutti i giorni e questo mi è piaciuto tantissimo e ovviamente in zucchero maionese questa questione non esiste inoltre in blu è molto è molto presente anche il la problematica del futuro cioè di come di cosa si vuole fare da grandi di la strada che si vuole intraprendere intraprendere una volta finito una volta concluso il liceo e questa è un'altra questione un'altra tematica che a me è interessata molto anche se ovviamente sicuramente è diciamo trita e ritrita e cos'altro vi posso dire che la naturalezza con cui ci viene raccontata questa storia e mi ha veramente molto molto colpito in zucchero maionese tutto rimane estremamente realistico tutto quanto e questa è una cosa meravigliosa cioè quello che dicono sia in blu e sia in zucchero maionese personaggi e ciò che pensano è veramente tutto molto molto plausibile non c'è non c'è forzatura però in zucchero maionese si vivono delle situazioni un po più estreme che io per fortuna nella mia vita non ho mai vissuto non ho mai vissuto neanche un amore omosessuale sia chiaro però comunque in cui ci sono delle scelte fatte dalla protagonista che sono veramente un po estreme e che per fortuna io non ho mai vissuto e non ho neanche mai immaginato di fare di compiere non mi sono neanche mai ritrovato per fortuna in una storia stantia che si sta trascinando tutto ciò vuol dire che cosa che in alcuni frangenti ho provato invece che una totale empatia una empatia leggermente minore ma soprattutto un po di una minima rabbia nei confronti di alcune scelte che sono fatte un po di nervosismo dettato da questo ciò però non vuol dire che non siano plausibili le azioni che sono all'interno di zucca maionese perché ad esempio nella vita di tutti i giorni se mi guardo intorno a me alle mie amicizie mi rendo conto che sono effettivamente realizzabili alcuni comportamenti anche qui in italia anche da noi e non tutto bene quindi questa è la prima differenza e quando io ho finito il di leggere entrambi i volumi sinceramente mi sono sentito inondato dalle emozioni in blu mentre in zucca maionese sì ma non allo stesso livello ma secondo me la differenza più grande fra questi due volumi è il comparto grafico che secondo me è sempre eccezionale eccezionale e chi dica una nana prende delle scelte un po forti se vogliamo cioè c'è in blu ad esempio c'è la quasi totale assenza di sfondi di ambientazione è tutto un primo piano o è tutto un comunque un inquadratura ristretta che ci mostra solamente una piccola parte delle protagoniste inoltre cosa vi posso dire che c'è quasi la totale assenza di retini c'è quasi la totale l'assenza di ombre nel senso di chiaro scuro anche se qualche ombra c'è ed è completamente nera magari insomma ci sono delle scelte stilistiche secondo me molto molto interessanti e poi c'è questa linea sottilissima che fa da contorno a tutto quanto e che spesso non viene non viene riempita e quindi lascia molto bianche le tavole tante di quelle cose delle cose che ho detto sono condivise fra zucca maionese e blu ma non proprio tutte allora innanzitutto facciamo un gioco io adesso apro a caso questo volume e se non è spoiler ve lo mostro proprio per dimostrarvi che io non scelgo una illustrazione particolare da mostrarvi ma semplicemente tutto il volume è così tantissime volte ci sono manga che in alcuni frangenti in alcune splash page oppure in alcune tavole sono meravigliosi e poi in realtà nello standard delle pagine la maggior parte delle volte non hanno assolutamente lo stesso livello e fra l'altro su questo argomento torneremo sicuramente nei prossimi mesi visto che ci sono alcune opere che verranno ripubblicate e che secondo me rientrano esattamente in questa casistica adesso io apro a caso eccolo qua guardate guardate questa pagina qua in alto troviamo un'ambientazione uno sfondo minimale che come vedete non è più ripetuto all'interno delle altre delle altre vignette se non per questa scodella e anche qui c'è qualcosina però veramente il minimo indispensabile poi vedete le maglie ad esempio la maglia di questa protagonista no di questo personaggio completamente lasciata bianca al suo interno esattamente come lo sfondo e il nero orienta solamente in alcuni indumenti e soprattutto nella nei capelli delle persone dei personaggi ma la cosa che mi lascia sempre spallordito ad esempio queste inquadrature un po di sbieco un po nascoste queste che vedete qua sotto soprattutto questa e questa guardate sì nonostante noi vediamo questa protagonista da dal lato ed è quasi totalmente coperta dal dai capelli riusciamo a vedere a scorgere il suo sorriso che non è solamente dovuto a sulla sua bocca ma secondo me cioè io lo riesco a vedere anche dagli occhi anche così e questo secondo me è veramente molto molto interessante oltre al fatto che sempre questa pagina vedete un'altra cosa che torna ciclicamente nelle sue storie anche in zucca maionese cioè l'attenzione alle mani guardate le mani come catturano la tensione all'interno di questa di questa vignetta o che spuntano fuori qua sotto e fra l'altro sono disegnate in modo divino e spesso invece molti molti disegnatori sfuggono sfuggono ai piedi alle mani al naso perché è un punto un po dolente sempre della riffigurazione per immagini vediamo se riesco a trovare anche qua qualcos'altro ecco anche qui guardate qui questo sguardo oppure questo qui guardate quanto è espressivo insomma io ciclicamente sfogliavo le pagine di questo manga e notavo determinate cose cioè anche in questo caso come potete vedere lo sfondo è veramente essenziale è minimale come minimale è anche il resto però guardate che attenzione che dà allo sguardo alle sopracciglia agli occhi che sono fra l'altro asiatici non tondi e neanche europeizzati anche il naso minimale che si può solamente intuire la bocca pochissimi segni però riesce a dare completamente l'espressione e il sentimento di questi personaggi che può essere anche un po spento come espressione e poi e cos'altro ecco forse il punto negativo di questa e di questo di blu soprattutto che non ho ritrovato in zucca e maionese questa difficoltà è capire le distinguere le due protagoniste perché è veramente un po complicato io ci sono riuscito attraverso il taglio di capelli perché come potete vedere qua sotto questa è una delle protagoniste vedete che ha un taglio pari mentre qua sopra è l'altra perché ha queste diciamo queste parti finali queste conclusioni decisamente diverse non sono pare oppure un po di frangetta insomma ci sono delle piccole accortezze che ti fanno intuire di chi sta parlando chi sta pensando però alcune volte si fa in effetti difficoltà e cosa che non accade appunto in zucca e maionese però oltre a questo io tantissime volte in mezzo a blu sono guardavo le pagine guardavo queste questi disegni e rimanevo veramente folgorato anche qua ho aperto di nuovo a caso guardate l'espressione qua sotto con la bocca mezza aperta oppure qua la mano che che diciamo è fra i capelli dell'altra dell'altra ragazza e poi come potete vedere e come vi dicevo prima non si vedono quasi mai a corpo a corpo intero è sono molto c'è una scelta di un'inquadratura molto particolare perché è incentrata su solamente piccole porzioni del corpo di queste protagoniste e anche qui come potete vedere spunta fuori una mano che da sola è la protagonista di una vignetta in zucca e maionese invece c'è una grandissima differenza secondo me cioè il tentativo da parte di che dicono la nan che tre anni dopo la pubblicazione di blu tenta di immergere i suoi protagonisti i suoi personaggi all'interno di un contesto urbano quindi adesso io apro a caso e vi mostro già la prima impatto ecco qua allora adesso a parte queste immagini che sono molto ricordano molto blu secondo me queste qua oppure questa una mano mi pare di sì anche questa mi pare che sia una mano però ci sono molti più oggetti nella scena e quindi non ci sono solamente porzioni di corpo delle protagoniste ma ci sono anche altre cose altri dettagli e vediamo se riesco a trovare guardate ho aperto un'altra volta a caso guardate qua questi sono tutti sfondi che alcune volte sono d'impatto ed hanno un contesto sicuramente un maggiore contesto rispetto a quello di blu però devono dire che tolgono anche un po dell'unicità di quello che era lo stile dell'autrice ma quando andiamo anche guardato così in blu se apri a caso riesci a cogliere subito gli oggetti le persone che sono in gioco nel senso che occupano le cose fondamentali che occupano le varie vignette invece in questo caso è un po più dispersivo ad esempio qua dentro su cosa si deve soffermare l'occhio secondo me non è molto chiaro ci sono altre scene dove questo è spoiler ecco qua guardate qua guardate questa vignetta vedete i due personaggi sono si ritrovano all'interno di un contesto un po più civilizzato mettiamo così un po più appunto ci sono degli sfondi semplicemente che in blu assolutamente mancavano però qua secondo me è nettamente diversa la sensazione rispetto a queste tavole qua riconosci subito in un battito di ciglia il soggetto mentre qui essendoci molti più elementi è molto meno comprensibile come anche qua sopra guardate qua in alto a sinistra per voi credo e non so se dopo verrà tutto ribaltato comunque essendo il personaggio maschile in questo caso semplicemente disegnato con queste linee sottili e senza alcun elemento di nero perché il nero non viene usato utilizzato sui personaggi maschili questo che cosa implica che le stesse linee con lo stesso spessore descrivono sia lo sfondo e sia il personaggio ed è questa la più grande differenza fra blu e zucca e maionese in zucca e maionese nonostante la trama sia più complessa se vogliamo e anche proprio sia figlia del fatto che i due protagonisti hanno anche un'età più matura più adulta dall'altra parte il disegno secondo me anche se è stato scritto tre anni dopo rispetto a blu è stato un po una marcia indietro perché è stato il tentativo da parte di criticano di inserire questi personaggi all'interno di un contesto ma il suo stile secondo me è stato penalizzato perché di solito si dice che aggiungere uno sfondo a cavolo questo manga è privo di sfondi che palle non è abbastanza curato eccetera ma in realtà dipende dallo stile che viene utilizzato dall'autore o dall'autrice e in questo caso secondo me il suo stile viene penalizzato mentre la scelta le scelte grafiche che ha fatto in blu sono molto più particolari molto più riconoscibili e fuori dal contesto generale e anche secondo me agli occhi più piacevole poi non so se sono riuscito a farvi capire ciò che farvi intuire ciò che penso e probabilmente potete benissimo essere anche non concordi con ciò che penso io guardate ad esempio qua questi capelli nonostante sia tutta una massa di nero io è come se li potessi toccare guardate che scelta qui io apro questa pagina e non è che devo guardare oddio ma qualche cosa disegnata questo è il palo di una luce questo è il personaggio maschile questo è uno scaffale di una libreria eccetera eccetera qua è immediatamente riconoscibile è molto più facile però è allo stesso tempo anche diverso non so spero di essere riuscito a farvi intuire un po di più ciò che ho ciò che mi è parso ed è soprattutto per questo se per le trame quindi anche se ci sono delle diversità comunque siamo lì alla fine secondo me dal punto di vista grafico blu è nettamente una marcia in più sono due letture splendide splendide meravigliose che io consiglio a tutti quelli che cercano qualcosa di maturo e che cercano un manga sentimentale degno di nota secondo me due letture veramente incredibili da una parte quindi un amore giovanile giovanissimo fra due ragazze quindi omosessuale se vogliamo dire così ma comunque è tutto molto leggero e non c'è nessuna morbosità ecco mentre nel nella storia di zucca maionese eterosessuale e perché ho voluto tirare di nuovo in ballo questo discorso non lo so tanto ve l'ho già raccontato sono entrambe storie veramente d'amore naturalissime e splendide e chi se ne frega se sono omosessuali o eterosessuali veramente non ci interessa niente di tutto ciò l'importante è che sia amore e ve l'ho già detto i retini sono quasi assolutamente assenti come sono assenti anche praticamente i personaggi maschili e i genitori dei protagonisti ovviamente come spesso capita per i genitori dei protagonisti dei manga sono completamente assenti e chissà se questo vuol dire qualcosa anche sul ruolo dei genitori in giappone sulla loro assenza magari chi lo sa e i personaggi maschili sono comunque completamente assenti qualche volta si notano in blu scusate in blu sono completamente assenti in zucca maionese ovviamente no visto che la storia d'amore è fra un ragazzo e una ragazza e cos'altro vi volevo vi potrei dire ovviamente il formato è il solito della dinite showcase quindi 17 per 24 alla fine di blu c'è anche una posfazione che sinceramente non mi è piaciuta chissà quanto in zucca maionese invece non c'è spero di non averla saltata no non c'è non c'è e poi cos'altro vi posso dire direi basta anche perché sto finendo la voce fatemi sapere voi cosa ne pensate di kirikonanan se avete letto altro di suo magari su internet o magari in edizioni in altre di altre lingue estere io aspetto molto molto volentieri che dinite showcase prosegua per questa strada con la pubblicazione di kirikonanan perché io voglio assolutamente comprare altro di suo e non vedo l'ora ma soprattutto fatemi sapere avete preferito zucca maionese o blu perché devo dire che nonostante blu sia stata un'opera di maggiore successo mettiamolo così la maggior parte delle persone che ho sentito mi hanno detto che hanno preferito zucca maionese quindi sono rimasto un po stranito però curioso ancora più incuriosito da questo fatto visto che avevo un bel ricordo di blu quindi volevo assolutamente a quel punto leggere zucca maionese e sinceramente alla fine io sono arrivato alla conclusione che preferisco blu però sono due opere veramente bellissime bellissime e quindi fatemi sapere voi se l'avete letto e se state cercando un bel manga sentimentale per un pubblico maturo e dallo stile un po comunque diverso dal solito io ve li straconsiglio straconsiglio bene così spero di non essere mi dimenticato nulla altrimenti sarà mi tormenterò per tutta la notte e chissà quando pubblicherò questa questa storia questo questo video e a presto con zucca maionese blu e vedremo chissà quale altra opera a presto ciao